Domani inizia il periodo quaresimale e il santuario Santissimo Salvatore di Andria ha preparato un palinsesto ricco di appuntamenti, molti dei quali saranno trasmessi in diretta da Teledeon. Scopriamo insieme quali sono. Come normalmente succede in tutte le parrocchie, in tutte le realtà ecclesiali durante la quaresima, che è un periodo forte dell'anno, uno dei più sentiti, si moltiplicano le iniziative soprattutto per non solo mantenere la tradizione delle pratiche devozionali, tipo quelle della Via Crucis, ma anche per dare la possibilità alle persone di pregare e di approfondire di più il messaggio della parola di Dio. In modo particolare al santuario noi, oltre alla Via Crucis, tutti i venerdì, eccetto il primo perché ad Andria è la festa della spina, quindi c'è la concelebrazione in cattedrale che seguiremo in diretta su Teledeon alle 19.30, quindi ci sarà la Via Crucis il venerdì alle 20.30. Avremo l'ufficio delle letture della domenica anticipato a sabato sera, alle 20.30 di sabato appunto in diretta su Teledeon e poi ci saranno gli appuntamenti con il Trido Pasquale, lo ricorderemo insomma nel mentre, quindi diciamo gli appuntamenti della Settimana Santa, che combineranno con la celebrazione della Vella Pasquale e poi siccome al santuario noi veneriamo la Madonna che viene diciamo nominata con il titolo di Madonna di Trimoggia dal luogo in cui ci troviamo, la festa della Madonna di Trimoggia anticamente si faceva la seconda domenica di Pasqua che oggi è diventata la domenica della Divina Misericordia. Vogliamo riportare la festa a, diciamo, non dico all'antico splendore perché i tempi cambiano, però la vogliamo riportare a quella domenica perché è la sua domenica e la vorremmo celebrare con un triduo che la precederà questa festa e poi la sera con una processione e con un momento di festa. Vogliamo fissare alcuni momenti forti di questo periodo forte della cristianità. Gli appuntamenti oltre quelli domenicali, classici, abbiamo il giovedì con l'adorazione, il venerdì con la Via Crucis, il sabato con l'ufficio delle letture. Sono tre momenti che non bisogna perdere. Assolutamente, sempre alle 20 e 30, quindi diciamo in prima serata, che per le persone che non possono venire in chiesa, che stanno lontane, diciamo chiaramente sono un aiuto proprio perché di fatto non hanno altre possibilità. Però diciamo l'invito è che a chi può possa essere presente perché diciamo noi viviamo una fede che non è soltanto intimistica, quindi che riguarda noi, soltanto noi e il rapporto con Dio, ma riguarda anche il rapporto con i fratelli. E dopo la pandemia si fa fatica a recuperare questo aspetto sociale, questo aspetto comunitario della fede. Quindi l'invito è cercare di partecipare a questi eventi. Al santuario abbiamo queste proposte sempre alle 20 e 30, giovedì, venerdì e sabato. In modo particolare appunto venerdì è una riflessione sulla passione del Signore, ma il giovedì e il sabato c'è un approfondimento sulla parola della domenica in modo particolare che è la parola che in un qualche modo deve segnare tutta la settimana. E la parola che noi ascoltiamo durante la messa domenicale, quindi che ci viene proposta, è una parola molto forte, molto significativa, che nell'anno A, che è quello che vivremo quest'anno, ci porta a riscoprire, a rispolverare il senso del nostro battesimo.